Perché bisogna lottare in favore di questa iniziativa cittadina europea per il diritto alla salute? Perché la vita è il bene più prezioso che tutti abbiamo e poi non solamente noi esseri umani. Un grande progresso che abbiamo realizzato negli ultimi anni è di dire che se gli esseri umani hanno diritto alla vita, anche le altre specie viventi hanno diritto alla vita e la vita ha il diritto della vita. Questo però non è più applicato da alcuni decenni, nemmeno sul piano formale del riconoscimento del diritto non si parla più di diritto alla vita e in particolare di diritto alla salute, si parla di accesso ai medicinali, ai vaccini, a tutte le altre condizioni o strumenti medici, ma non si dice più che c'è il diritto alla vita. Non c'è l'obbligo da parte degli Stati di creare le condizioni, le infrastrutture, tutto per permettere nell'eguaglianza a tutti gli esseri umani e alle altre specie viventi di godere del diritto alla vita. No, si dice che bisogna essere nelle condizioni per favorire l'accesso. Ora l'accesso significa che c'è una trattazione, che c'è una specie di commercio tra colui che ha bisogno dei medicinali e dei vaccini e colui che ti dà il vaccino, ti dà il medicinale. E questo accesso è un problema economico, per cui oggi la salute non è più un diritto, ma è considerato un problema di ben gestire le condizioni di accesso. Ora le condizioni di accesso è che tu devi pagare, perché oramai a seguito della mercificazione della vita e soprattutto della brevettabilità della vita, cioè dire che si dà alle imprese private il diritto esclusivo di proprietà e di uso delle conoscenze sulla base delle quali si producono, si concepiscono, si sviluppano i medicinali e i vaccini, un diritto di proprietà esclusiva e di uso? Se non si pagano le imprese che hanno i brevetti sul vivente, ebbene nessuno ha accesso ai medicinali e ai vaccini. La politica della salute oggi è determinata dai detentori dei brevetti, sono le imprese multinazionali che decidono della politica salute mondiale. I governi tutt'al più possono tentare di comprare i brevetti, pagare le imprese per poi mettere a disposizione dei propri cittadini, sì però qui siamo in una logica perversa, perché si lascia il diritto di proprietà e di appropriazione di proprietà ai privati e il ruolo del pubblico è semplicemente comprare i beni privati e metterli a disposizione ai cittadini. Questo è un furto, per questo la legislazione che ha permesso di stabilire che le conoscenze, tutte le conoscenze sul vivente, anche comprese le conoscenze sull'intelligenza artificiale, possono essere soggetto di brevetti a scopo di lucro, è stata una delle decisioni più nefaste che i nostri dirigenti del mondo abbiano potuto compiere negli ultimi 50 anni. Il brevetto è una forma di opposizione terribile al diritto, se non paghi il brevetto non hai nessun diritto. Ed ecco perché in queste settimane, in questi giorni si discute molto come si fa a distribuire i brevetti, i vaccini sotto brevetti, sotto le grandi compagnie multinazionali, quattro grandi compagnie multinazionali dominano il mercato dei brevetti e tre quarti della produzione mondiale dei brevetti, dei vaccini, chiedo scusa dei vaccini, è in Europa. Se non si elimina la legislazione sui brevetti privati a scopo di lucro non c'è diritto alla salute, non c'è diritto alla vita.